Prossima tappa, Suzuki Solutions. E dopo tre anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Apriamo con la notizia della denuncia dell'uomo che l'altra domenica ha brutalmente aggredito una donna al Carrefour di Gallarate. L'aggressore ha 26 anni e risiede a Cardano al campo. È stato identificato grazie a un pacco di farina e al pagamento con la carta poste pay. Sono stati gli investigatori coordinati dal vicequistore di Gallarate Luigi Marsico a dare un nome e un volto al giovane che aveva picchiato con violenza la gallaratese 35enne che era la cassa con la spesa. È stato denunciato per lesioni aggravate. Decisive le testimonianze della vittima e dei clienti che sono state incrociate con le immagini della videosorveglianza in entrata e in uscita dal supermercato. Spostiamoci ora a Luino dove i carabinieri hanno denunciato un uomo accusato di aver compiuto atti osceni davanti alle donne nei pressi di un supermercato. Sarebbero stati almeno tre i casi contestati all'uomo. I militari lo cercavano da quest'estate. Adesso, nonostante lui girasse su un'auto con targa svizzera, è stato identificato. Si tratta di un italiano. A suo carico la sanzione amministrativa di 10.000 euro moltiplicata per il numero degli episodi che gli vengono contestati. A Gallarate torna a tenere banco il caso Sinti. Questa mattina in via Lazzaretto è arrivata la Ruspa, ma le roulotte non se ne sono andate. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Aveva il compito di scavare un nuovo solco che rendesse impossibile l'accesso al vecchio campo Sinti. La Ruspa, che martedì mattina attorno alle 10.30, è stata bandata in via Lazzaretto a Gallarate dal comune. Sono stati rimovivili, però, le tre famiglie che all'inizio dell'estate sono tornate ad occupare l'area. Di condurre una Ruspa in un luogo in cui non ci sono manufatti edifici stabili, sia un atto di intimidazione. Così ieri, al telefono, l'avvocato dei Sinti, Luca Bauccio, che si è detto pronto a denunciare il sindaco Andrea Cassani. Il mezzo che portava la Ruspa ha fatto manovra ed è tornato da dove era venuto, ma non a retia di un passo. Comunque, l'amministrazione comunale... I Sinti verranno spostati da lì al più presto, confermava ieri Andrea Cassani. Non intendiamo trattare con chi non rispetta la legalità. Verso il voto. A Varese, la campagna elettorale entra nel vivo con uno scontro sul tema LGBT. Ad accendere la miccia è la candidata del Partito Democratico, Valentina Cusano, che con un post su Facebook non usa troppi giri di parole. Afferma. Matteo Bianchi ha confermato, riferendosi al DDL-ZAN, che sui progetti nelle scuole contro le discriminazioni e il bullismo nei confronti delle persone LGBT, la posizione del comune, qualora fosse eletto, sarà ostativa. È evidente che a Matteo Bianchi la sicurezza e la salute di tutti noi cittadini di Varese non interessa. Sarà pertanto ostile e discriminatorio. Siamo a un bivio. Immediata la risposta del candidato sindaco del centrodestra. Dice Bianchi Nessuno dovrà scappare da Varese quando sarò eletto sindaco e tantomeno si potrà dire che le amministrazioni di Fassa, Fumagaglia e Fontana fossero governate da dei dittatori e non da dei sindaci. Le parole utilizzate in questo post sono deliranti e fuori luogo. La città è sempre stata aperta e tollerante, a prescindere dal colore politico del sindaco. E come ho detto in più occasioni, sul tema delle idee non tollero che quelle di qualcun altro vengano bollate come discriminatorie. Infine le Paranolimpiadi. È stato un altro grande giorno di successo. A Tokyo la Pola Varese conquista altre due medaglie. Giulia Terzi ottiene l'oro nei 100 stile libero. È la seconda medaglia dopo l'argento nei 400. Mentre il magentino Alberto Amodeo conquista l'argento nei 400 stile libero. Per il momento è tutto. Un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani